Benvenuti a tutti ragazzi, qui Mr. Patax117, siamo nel giro e spiegazione di Monza e partiamo subito con l'asciuto con Danil Kvyat. Allora, siamo subito lanciati su rettino veloce che poi è quello del traguardo, attiviamo DRS e ci troviamo a frenare a 150 metri e prendiamo la prima variante in prima marcia a circa 90 all'ora. Siamo lanciati adesso verso la curva veloce che si prende tranquillamente in pieno, però bisogna essere attenti a non allargarla troppo per poi guadagnare più velocità. Siamo vicini alla chicane, si prende in seconda marcia a circa 150 all'ora in seconda, poi passerà alle due di lesmo, prendibile in terza, forse quarta, questa curva presa in terza, la seconda di lesmo. Che sono due curva che comunque sembrano facili, ma in realtà un attimo allargata e rischio di finire in mezzo alla sabbia. Siamo verso il secondo rettilineo del DRS, lanciati verso la Scari, prendibile in terza marcia a circa 200 all'ora, per poi arrivare a questa, a questo rettilineo che è molto, cioè abbastanza lungo diciamo. Arriviamo forse con questa Toro Rosso, no, ma si può arrivare a toccargli il fondo scala, per poi arrivare alla parabolica, prendibile in terza a 170 all'ora. Arriviamo verso la fine, il giro forse non è dei migliori, un po' altino, 1,26,7, però preferivo farlo naturale al primo tentativo. Ora passiamo con Fernando Alonso sul bagnato, allora, siamo qua lanciati verso l'inizio, davanti ci abbiamo Pic, sfruttiamo la sua scia per guadagnare velocità e adesso arriviamo a toccare il fondo scala del motore. Qua freniamo un pochettino prima, forse a 160 metri, prendiamo la curva in prima. Poi, arriviamo, comunque ci arriviamo a prenderla piuttosto bene, anche questa curva si può prendere a pieno anche sul bagnato, però qua è ancora peggio allargarla perché sull'erba dopo ti ritrovi che è un po' difficile da tenere. Ci troviamo a frenare questa curva a 120 metri e si prende anche a 120 all'ora in seconda. Abbiamo un bel vantaggio su Vettel di due secondi, per poi tornare sulle due di Lesmo, che stavolta si prendono in terza marcia, in quarta, perché finisci il giro in mezzo alla sabbia. Bianchì si fa da parte sportivamente. Siamo ancora verso il rettilineo della Scari. La curva di Lesmo si prende a stavolta a 190 all'ora in terza marcia, qua abbiamo un pochettino rischiato una perdita di potenza. Siamo ancora nel rettilineo prima della parabolica. Bisogna frenare a circa 90-80 metri, però stavolta si prende forse il giusto inizio di terza marcia. Arriviamo al fondo del rettilineo in 1 a 28-740. A due secondi meno che su un shoot. Infatti il giro su un shoot era molto lento, però volevo farlo naturale del tutto. Quindi ragazzi, se il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Se è così, cliccate un piacere, commentate e ciao a tutti! Ciao!